Sette dimagrante anticellulite baitiziana, composto da XO anticellulite, bagno, idro e rassodante. Sono tutti prodotti a base naturale, prodotto e distribuito dall'erba voglio Brescia. 160! Andiamo pure avanti! 93.000! 125! 105! Andiamo a leggere! Buongiorno ragazzi, i bancomati vi portano un super contest a spese loro. A spese loro. Ci teniamo a dire che questo buono Amazon lo mettiamo in palio noi personalmente e non vi chiediamo nulla a livello di soldi. Mai. Allora, spiega ragazzi, se qualcuno a nome Bancomati vi chiede qualcosa non è veramente noi. Non siamo noi. Noi diamo e basta. Esatto. Miki, spiega un attimo come funziona questo contest. Allora, se anche tu vuoi un buono Amazon da 25 euro per fare i tuoi bei acquisti. Ah, scusami un secondo. Non abbiamo mai fatto il contest di dicembre se non è. Abbiamo pompato più questo. Esatto. Bravissimo. Ci teniamo a dirlo. 10, 5, 7 euro di buoni sconto con di benzina. Ho detto, ciao, boh, spariamo un bel 20 euro di buon Amazon. Perché? Così vi potrete comprare prodotti per la casa, prodotti alimentari, gadget, regali, giochi. Oh, ci sono tanti poi. Davvero. E ci sono tante belle cose. Allora, per partecipare abbiamo fatto una meccanica veramente bellissima. Infatti ci si è preso un po' di tempo per ragionare. Allora, la meccanica è la seguente. Ogni persona deve farsi una foto con un foglio. Esatto. Così. Così. Sorridi per la miniatura? Eh. No, praticamente. Come youtuber fighi, io ho capito. Praticamente, basta che prendete un foglio di carta. Grande, piccolo, medio, strappato. Ci scrivete sopra Bancomati. Sul cellulare, lo scrivete in grande se avete un cellularone. Basta che c'è scritto Bancomati. Indipendentemente dal colore, dal carattere, basta che c'è scritto. Perché sia leggibile. Esatto. Vi fate una foto. A casa. Al supermercato. Dove volete. In strada mentre attraversate, occhi chiusi. Esatto. Con un amico, con un'amica. Dove volete. Un gruppo. Un zio, con un papà. Anzi. Anzi, anche. Se siete in quattro, volete partecipare? Fate una foto in quattro. E vi taggate tutte quattro. Davvero. L'importante è che una mi tiene questo foglio qua. Poi, vi spiego il secondo step. Vi fate una foto. Ce la mandate alla pagina Facebook dei Bancomati tramite il bottone che mi ha messo sotto al logo grande. Controllo perché l'ho appena messo. Certo. Sotto al logo grande ho messo apposta. Il bottone invia un messaggio. Ok. Una volta capito come mandare la foto ai Bancomati, ci siamo. Noi, Bancomati, prenderemo queste foto. Faremo un album nella pagina Bancomati. Quindi non andranno in giro. No, no, no. Rimane tutto qua. No, vi chiediamo niente di. Giusto per ordinarle faremo questa cosa. La foto che avete caricato. Esatto. Che prende più vi piace. Entro. Guarda che lo facciamo finire questo contest. Eh, non lo so tu cosa dici. Lo facciamo finire in 15 giorni? Sì, dai. Mi hanno perduto il tempo per girare. Quindi 15 giorni. Metà febbraio? Dai, sì. Metà febbraio. 10 di febbraio. 10 di febbraio ti piace? 10 di febbraio, perfetto. Il giorno 10 di febbraio scaderà il contest. Decido così, sull'unga, proprio un papà. Con due notai veloci. Esatto, esatto. Il giorno 10 di febbraio scaderà il contest. Quindi entro il 10 di febbraio voi dovete realizzare che vi piace nella vostra foto. Perfetto. Domanda. Cioè domanda, precisazione. Se la vostra foto è quella in quattro persone, non è che vi mandiamo 100€ di buono anno. Esatto. No, vi spiego. Vi spiego proprio perché. Buono anno non è uno. A termini di legge, nei contest, i buoni devono stare sotto i 25€. Sennò devono essere... 5,83€. Bravo, bravo. Quindi noi dobbiamo stare sotto i 25€. Sennò dovremmo fatturare, registrare... Sì, notario, ministero, così. Quindi noi possiamo dare un buono da 25€. Quindi se fate la foto in 15 e vincete, noi manderemo il buono a una persona. Praticamente ci tengo a precisare che se la foto inquadra più persone taggate e questa foto va a vincere, noi manderemo il buono alla prima persona che ha mandato quella foto. Che comunque, se siete amiche, ve lo dividete tra di voi. Esatto. Diciamo una cosa. Che noi manderemo il buono alla persona che vincerà. Certo. Quindi alla, non alle. Certo. Ci tenevamo a precisare quello prima di malintesi. Esatto. Tutto qui. Quindi vi manderemo un buono per quattro. Adesso facciamo l'esempio di una foto di quattro persone. Sì, sì, sì. Poi ve lo gestite voi. Adesso lo gestite voi. Esatto. Io direi che è stata spiegata molto bene. Sì. Non ricapitoliamo perché siamo stati veramente precisi. Il discorso è facile. Ti fai una foto così. La mandi ai Bancomatti. I Bancomatti creano un album fotografico con tutte queste foto dei partecipanti. Perfetto. Chi fa più mi piace si vince è buono. Ottimo. Preciso. Sbam. Un buono. Un buono perché c'è in paglio solo un buono. Da 25 euro. E buttalo via. Ok ragazzi. A questo punto Michi direi. Un buono perché c'è in Bancomatti. Ciao ragazzi. Continuate a commentare e a spolliciare come state facendo. Continuate a seguirci sui nostri social. Twitter, Facebook e Instagram. Sì. Continuate a seguirci anche su Telegram. Se non vi siete iscritti iscrivetevi al nostro canale Bancomatti di Telegram. Ci sono una marea di bombe. Anzi abbiamo superato le 100 persone. sul gruppo da un pezzo. Vi ringraziamo. Sì. Questa è una cosa bellissima. Esatto. Speriamo che questo nuovo anno ci porti un sacco di nuovi iscritti. Speriamo. Speriamo. Speriamo di arrivare a mille entro fine febbraio. Speriamo che ci ascolti il popolo. Speriamo. 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 Un abbraccione dai Bancomatti. Ciao. Ciao.